Buon lavoro a tutti! La prima parola della settimana è dedizione. Bellissimo esempio, arriva dalle Marche da fermo, siamo al pronto soccorso, viene dimessa Giulia 15enne. Il medico chirurgo non è tranquillo e finito il suo turno bussa alla porta di casa della ragazza per chiedere i genitori di riportarla in ospedale. Così Francesco Bernetti, evangelista, ha salvato la vita a Giulia che a causa di un'infezione midollare rischiava di perdere l'uso delle gambe. Semplice e dirette le sue parole. Ho fatto solo il mio dovere di medico. Bellissimo esempio di dedizione. La seconda parola chiave della settimana è volere potere, se lo sogni lo puoi fare. È l'insegnamento di Carla Patalano, 29 anni, paracadutista diversamente abile. Dice lei avevo sentito parlare di paracadutismo e mi sono detta perché no e pensare che per i medici non avrei nemmeno potuto camminare. La paura fa parte di noi superarla vuol dire vivere. Bellissimo esempio questo di chi non si ferma di fronte agli ostacoli. La terza e ultima parola chiave della settimana è leadership. Che cosa fa di un leader, un vero leader? Coraggio e visione. Se il coraggio è grande e la visione è ampia, allora siamo nella perfezione. Ne ha parlato Simona Cremascoli, partner della società di selezione del personale Carter & Benson a Milano, che ha ospitato la presentazione del mio libro Smart Leadership Canvas. Coraggio e visione dunque per i leader. Buon lavoro a tutti e visto che si avvicina la domenica di Pasqua, 31 marzo, buona Pasqua a tutti!